Avvocato Mimmo Lardiello, lei rappresenta i miti ricoltori e quindi un'altra fetta, un altro spaccato del mondo produttivo che è stato violentato dall'Ilva. Beh sì, è una fetta importante devo dire anche che fa parte della tradizione della città sotto il profilo di questa miti ricoltura che a Tarant andrebbe salvaguardata, valorizzata e bisognerebbe addirittura secondo me farne uno dei punti focali del rilancio anche del tessuto economico della città. Si tratta per quanto riguarda il mio intervento difensivo di numerose società cooperative operanti come appunto addetti ai lavori per il settore della miti ricoltura per l'allevamento dei miti nel primo seno del Mar Piccolo che in questo processo è stato oggetto di uno specifico capo di imputazione che è stato formulato per una ipotesi di avvelenamento di sostanze alimentari, secondo l'ipotesi accusatoria derivante appunto da quella che è la collocazione soprattutto delle centrali di riciclo e di sfogo delle acque che poi venivano utilizzate all'interno del ciclo produttivo dell'acciaieria. Siamo ovviamente qui per l'accertamento della verità nell'augurio che questo processo possa poi finalmente trovare un'accelerazione dei tempi e arrivare a una definizione di quelle che sono le responsabilità. Lardiello, è vero che i legali dell'ILVA per carità devono fare, devono svolgere la loro attività, devono fare per così dire il proprio mestiere e devono difendere comunque l'azienda anche se difendere l'indifendibile è davvero un compito arduo, ma parliamo in base alla sua esperienza in materia su quali appigli incentrano la loro difesa? Al di là dei vari aspetti formali e quant'altro, però nella sostanza, nel merito è difficile poter giustificare un qualcosa di abnorme? La materia processuale è molto vasta, è logico che non è possibile in pochi minuti scendere nel merito di quelle che sono le singole posizioni. Di fatto anche questa mattina purtroppo per quella difformità formale che si è registrata su quel verbale della precedente udienza preliminare siamo regrediti in uno stato in cui i difensori sotto il profilo loro legittimamente sollevano alcune eccezioni che riguardano principalmente stamattina la validità degli atti di costituzione partecivile che sono stati presentati ad esempio davanti alla Corte d'Assise che poi ha stabilito la regressione del procedimento, ma anche sulla loro legittimazione eventualmente a riproporre delle eccezioni anche sugli atti di costituzione partecivile depositati davanti all'altro giudice dell'udienza preliminare che ha celebrato quella precedente. Sotto il profilo del merito è chiaro che si rientrerà a discutere le singole posizioni quando si avvierà nuovamente la fase delle discussioni. Noi tutti ci auguriamo, a prescindere dalle logiche difensive che sono proprie dei ruoli che ognuno ricopre in questo processo che ci sia un'accelerazione dei tempi perché la città aspetta delle risposte, aspetta delle risposte in modo chiaro non c'è dubbio che le vicende che riguardano lo stabilimento siderurgico hanno inciso in maniera profonda su quella che è la crisi che oggi Taranto vive e attendiamo tutti di sapere sia se sotto il profilo risarcitorio riusciremo ad ottenere qualcosa per le decine di persone come ad esempio i miti ricoltori che sono stati fortemente danneggiati se non addirittura distrutti nelle loro attività e poi in generale per quanto riguarda le patologie che purtroppo Taranto soffre e continua a soffrire nel suo cuore continuamente ferito e affondato.